Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6 Nel corso di questo lunedì 21 marzo avremo ancora tempo instabile al sud Soprattutto sulle isole maggiori, in Calabria, sul Salento Per effetto di aria fredda proveniente dall'est Europa Che manterrà il clima particolarmente freddo Con molti gradi sotto le medie del periodo Altrove l'alta pressione pian piano si rinforzerà e quindi riporterà il sole Seppur in un contesto piuttosto freddo In Abruzzo sarà un inizio di settimana ancora pienamente invernale Per quel che riguarda le temperature Risveglio di fatti molto freddo, minima tra meno 2 e 4 gradi Leggero aumento termico in pieno giorno Massime attorno ai 10 e 12 gradi sulle coste Il sole prevarrà comunque su tutta l'Abruzzo Ad eccezione di qualche residuo annuvolamento A ridossa dell'Appennino Negli ore mattutine Poi spazio al sole ovunque Con questo è tutto, grazie per l'attenzione Arrivederci al prossimo aggiornamento Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni